I carabinieri della Compagnia di Roma a Casilina hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cugini appartenenti alla famiglia di Casa Monica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento scaturisce da un'indagine coordinata dalla Procura e condotta dai carabinieri della Compagnia Casilina dal maggio al dicembre del 2021. A quanto ricostruito, i due avevano avviato un'attività di spaccio al dettaglio che aveva come base un appartamento occupato al pian terreno di uno stabile nella zona Don Bosco che consentiva di effettuare cessioni di cocaina dalla finestra dell'abitazione previ accordi telefonici con gli acquirenti senza la necessità di uscire in strada e con la possibilità di monitorare l'arrivo delle forze dell'ordine nell'area. Il cliente inseriva la banconota sotto la serranda e dall'appartamento fuoriuscivano le dosi richieste. Al telefono, per eludere le indagini, chiamavano la droga a biglietti dello stadio oppure birre fresche, prenotazione al ristorante. Inoltre, per evitare di infastidire altri condomini, si raccomandavano con gli acquirenti di non citofonare ma di fare uno squillo telefonico. Ma il viavai di acquirenti che stazionavano nel cortile del palazzo a tutte le ore non è passato inosservato ai militari. Ai due, già in carcere a Regina Ceri per i precedenti arresti, è stata notificata anche l'odierna ordinanza.